Io l'ho detto, ho parlato prima, quindi ho già riassunto il mio pensiero. Oggi questa è una presenza doverosa perché partecipe commosso pensiero dello Stato vicino ai familiari delle vittime, vicino a tutti coloro che hanno avuto delle perdite, hanno sofferto, soffrono delle mancanze, mancanze che si estendono anche a chi ha perso un'attività, ha dovuto smettere un'attività economica. Da questo punto di vista stiamo cercando di fare il possibile di tutto per lavorare con i commissari, con tutte le autorità locali. Vogliamo, e la ragione per cui ho portato anche questa gravata, l'ho detto prima, all'Osanna, quando c'è stata l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, Genova sarà il simbolo della rinascita dell'Italia. Lo dissi dall'inizio e stiamo lavorando per conseguire questo risultato. Sarà una rinascita, un rilancio economico, quindi del tessuto produttivo, economico, sociale di questa città, di questa regione, ma dell'Italia intera. Il nostro è un grande paese.